Altra compagnia, altro spettacolo. Siamo con Improvvisando che ci presenta uno spettacolo dal titolo Il fidanzato della fidanzata Che già detto così fa sorridere. Allora, tu che ruolo andrai a ricoprire? Allora, io nella commedia sono Lisetta, nello specifico la fidanzata Ecco, l'abbiamo proprio trovata. Possiamo raccontare un po' di quello che succederà, non troppo? Allora, la storia è praticamente la storia di questi due ragazzi che si conoscono E che praticamente si vogliono fidanzare e in pratica devono fare le conoscenze delle due famiglie Nella sostanza la famiglia, diciamo così, del fidanzato è un po' più particolare E la famiglia della fidanzata in pratica cerca di ostacolare un pochino l'unione E nel finale ci sarà un colpo di scena che però non svegliamo, non spoileriamo Perché se no, che gusto c'è? Allora, ricordiamo la data al nostro pubblico? Allora, noi ci esibiremo il 18 di agosto qui a Tre Ponti di Fano Allora, noi ci esibiamo il 18 di agosto qui a Tre Ponti di Fano